che è successo sono spariti che vuol dire sono spariti chiamate un'ambulanza è questo che vogliono distruggerci guardate ora dobbiamo uscire da qui dobbiamo chiamare la polizia non andiamo alla polizia sofia no come no perché non possiamo perché finirà tutto calmati non abbiamo fatto nulla che volete da noi ve l'avevo detto questa storia ci perseguiterà questa storia ci perseguiterà questa storia ci perseguiterà a vita